Assessore, un Natale ad alto livello, tempo anche di bilanci nell'impedezza. Si, l'idea è proprio questa, quella di fare oggi un bilancio di come è andato il nostro Natale e soprattutto anche per dare alcune risposte ad alcuni dubbi che sono nate sul web. Diciamo che è fondamentale dire una cosa innanzitutto, noi quest'anno abbiamo organizzato il Natale Last Minutes, perché come ben tutti sanno il bilancio è stato approvato il 24 novembre. Questo ha fatto sì che ha creato purtroppo parecchi problemi perché non avendo il bilancio approvato non si potevano fare gare, non si potevano fare affidamenti e di conseguenza il vero momento organizzativo è partito dopo il 25 novembre, perciò questo ha causato grosse difficoltà. Però nel complessivo ritengo che abbiamo fatto un ottimo Natale. In alcune interviste addirittura l'ho definito il miracolo di Natale perché poter riuscire a organizzare ben tutto e ora cercherò di entrare nello specifico, effettivamente è stato veramente un grande successo. Questo merito anche degli uffici che hanno lavorato senza sosta. Basta considerare che in questo Natale appunto sono stati organizzati ben 20 concerti musicali e questo è un grande numero. Logicamente non è frutto questo soltanto dell'amministrazione, anzi è soprattutto frutto di tante associazioni, realtà che si sono impegnati, tra quale l'importantissima è la diocesi della città di Aciriale, è importante l'apporto anche che ha fatto il Pressepe Settecentesco che hanno organizzato, se non ricordo male, più di tre concerti, ma anche della Proloco, anche del privato Attilio Cappellani che da sempre si è messo a disposizione nel settore della musica. Ricordo anche che grazie a lui abbiamo tre pianoforti messi a disposizione della cittadinanza e soprattutto quello all'interno del Palazzo di Città funziona veramente tanto, sono tantissimi che si avvicinano e suonano e questo sicuramente è una cosa molto bella. Ma a parte questo ci sono stati dei spettacoli teatrali, una proiezione gratuita di un cartone animato per i bambini che ha visto una grande affluenza, degli eventi sportivi perché da sempre il connubio sport natale è utilizzato alla Cireale, lo spettacolo dei pupi per dare forza alla nostra tradizione con la natività di Macri, dei balli ottocenteschi, dei laboratori artistici, delle mostre, diciamo tantissime attività collaterali che hanno fatto sì che il nostro Natale quest'anno sia stato veramente interessante. Del resto proprio, e qui vengo sui punti forti e cruciale del nostro Natale, abbiamo voluto creare quest'anno due poli attrattivi, quello sul piazza Duomo dove c'era il simbolo del Natale con il presepe e l'altro creato con delle luci artistiche, con delle figure 3D. Anche su questo voglio rispondere ad alcune polemiche che sono nate sulla figura dei cavalli. Io ci rido un po' su perché intanto queste figure le abbiamo ritrovate facendo una semplice ricerca in tantissime città, addirittura più grandi di Acireale. Ma oltre questo bisogna capire che c'è proprio la volontà di creare questo, diciamo, definiamolo tra virgolette parco delle fiabbe, parco delle luci, ma soprattutto indirizzato ai bambini. Ed effettivamente è stato un grande successo. Si sono registrate, io non so manco quantificarle, ma direi migliaia di scatti proprio a queste figure 3D che poi non hanno fatto altro che fare una pubblicità positiva perché poi postando queste foto non si fa altro che fare pubblicità. Addirittura ho assistito di presenza a una proposta di matrimonio con tanto di anello e questo veramente fa sorridere, no? Perché comunque in un qualche modo appunto era una cornice fiabbesca e questo sicuramente io credo che abbia funzionato. Del resto il numero dei visitatori, il numero appunto degli scatti, come dicevo poco fa, è stato veramente elevato. E qui voglio anche sempre ricordare che quello che avevo detto all'inizio, il bilancio è approvato il 24 novembre. Non è stato facile trovare una ditta di luminarie che si potesse veramente dedicare alla nostra città come in realtà tutti quanti vorremmo. Basti pensare che appunto queste ditte principalmente lavorano in questo periodo e allora al 25 novembre riuscire a trovare una ditta è stata veramente difficile. Io con la collaborazione degli uffici ci siamo messi a cercare veramente tutte le ditte, addirittura facendo telefonate fino al centro Italia, ma con grosse difficoltà perché tutte quante o avevano già tutte le luci, tutti gli accessori delle luci occupate oppure comunque ci promettevano che avrebbero iniziato dopo Natale e questo capite bene che non avrebbe avuto più senso. Fortunatamente abbiamo avuto una ditta, abbiamo trovato una ditta e con questa ditta siamo riusciti a fare secondo me sul punto di vista delle luminarie un Natale dignitoso. Come dicevo prima due poli attrattivi che uno è appunto Piazza Duomo e l'altro è Piazza Indirizzo. Piazza Indirizzo in cui appunto è stata allestita una pista di pattinaggio che tuttora è in funzione e sta registrando un grandissimo ed elevato numero di sportivi o comunque appassionati e andando su questo voglio fare una precisazione prima di creare malintesi perché ho letto che l'organizzatore ha scritto prolungata, proroga o compagnie varie. Non è vero, nel senso che già a Monte quando è stato fatto il contratto era stato previsto che la pista sarebbe stata smontata il 28 di gennaio, dunque non c'è stata nessuna proroga, già nell'accordo diciamo natalizio era tutto incluso. Accordo che anche su questo ci tengo a precisare che era diciamo unito al discorso dei famosi mercatini e qui voglio fare delle precisazioni. Intanto da tre anni da quando è che sono assessore cerco di portare alla pista di pattinaggio da girale perché credevo e sono tuttora convinto che poteva essere una grande appeal per la nostra città e così effettivamente è stato visto il grande numero di frequentatori. Però purtroppo ogni anno non ci riuscivo per due motivi, o perché comunque le piste erano sempre occupate o perché effettivamente la richiesta era molto esosa, si parla dai 40 mila euro in su e capite bene che è un contributo molto grosso per la cittadina di Cireale. Dall'altro il discorso dei famosi mercatini, voglio ricordare alla cittadinanza che l'anno scorso abbiamo fatto una gara destinata ai mercatini andata a deserta e non ci sono stati mercatini. Quest'anno la gara era stata fatta ugualmente in quanto non c'era un impegno di spese ed è andata di nuovo deserta. A Cireale purtroppo in questi ultimi anni diciamo ha gestito una perdita di interessi per questi artigiani, per questi hobbisti che si dedicano a questo settore. Di conseguenza quest'anno la mia scelta sarebbe stata o non fare nulla o creare un polo attrattivo che era appunto fatto da pista di pattinaggio e mercatini. Sapevo bene, viste le difficoltà, viste i tempi, che non ci sarebbe stato sicuramente un mercatino di Natale stile Nord Italia o stile Nord Europa che del resto per mia fortuna viaggiando ho visto tante volte. Ma del resto è anche difficile trovarlo qua nelle nostre zone. Ma sicuramente quest'anno sarebbe stato più difficile e di conseguenza già in qualche modo avevo dubbi sul prodotto finale. Però c'è da dire una cosa che è stato accettato tutto un pacchetto unico che ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori sia sul discorso della pista ma anche sui famosi mercatini. Perché magari avranno deluso le aspettative di qualcuno. Però è pure vero che ai mercatini, diciamo, gli attigiani, i commercianti lì hanno venduto, si è creato un movimento e soprattutto si è creato un movimento importante tra Piazza Duomo e Piazza Indirizzo. Dunque tutto il corso Umberto ha avuto un flusso di visitatori. Tra parentesi ha lietato per la prima volta da una filodiffusione con melodie natalizie che sicuramente ha reso piacevole passeggiare lungo la nostra via principale. Per questo dico io nel complessivo, anzi in realtà io considero questo Natale veramente funzionale e forse migliore anche degli altri anni. Sicuramente anche l'attesa dopo il periodo di pandemia ci ha aiutati. Però come dicevo abbiamo registrato veramente tanti e tanti visitatori. Voglio ricordare alcune cose anche importanti. La nostra mostra dei presepi. Ben 15 presepi ogni anno e anche quest'anno ci sono stati. Questo registra due cose importanti. Uno che la Cireale è una forte tradizione presepistica e due che effettivamente questi presepi, visto anche il numero delle visite, aiuta la nostra città ad avere un flusso turistico e di visitatori. A tal proposito voglio lanciare già un appuntamento, colgo l'occasione anzi, per giovedì prossimo, se non ero giorno 25, alle ore 10, presso proprio questa sala, la sala stampa del Palazzo di Città, ci sarà la presentazione dei video che abbiamo fatto realizzare proprio sui presepi di Acireale. Non saranno tutti purtroppo i presepi presenti, però già è un inizio e soprattutto questo è volto a due funzionalità. Una è quella di avere una memoria storica della realtà accesa sul mondo dei presepi e l'altra che possa servire da filtro, da promo anzi, per gli anni a venire. A Città in qualche modo deve scommettersi su questo settore, ha le carte giuste per poterlo fare e dunque è giusto che le amministrazioni future si possano anche attrezzare per questo. Noi abbiamo realizzato questo promo che mi auguro possa essere utilizzato negli anni futuri e possa veramente servire ad aiutare queste realtà importanti nel nostro territorio. Facendo anche un piccolo risultato sulle altre piccole attività e poi cerco di concludere, bisogna registrare anche i Babbi Natale lungo le vie commerciali che hanno registrato un grande consenso da parte appunto dei commercianti, anzi tanti proprio chiamavano per poterli avere perché portavano allegria, facevano respirare quell'aria di Natale e anche i cantastorie che sono stati mandati alle nostre frazioni ben 19 che hanno allietato diciamo appunto il Natale ma soprattutto anche in quella chiave tradizionale che è sicuramente importante e non bisogna mai perdere. La casa di Babbo Natale come poi la casa della Befana anche queste hanno registrato un grande successo da parte dei bambini e sicuramente un appuntamento che funziona e bisogna cercare di portare sempre di più avanti e per ultimo ricordo con molto piacere che quest'anno è tornata la nostra famosa tradizione dello zucco che infatti ha potuto vedere non soltanto l'accensione anticipato da un momento allegro di un concerto di bambini che sicuramente ha reso piacevole quel momento ma soprattutto anche da una tradizione acese che diciamo il raccoglimento di tutte le persone dopo la messa verso luna e tante persone veramente si sono incontrate nella nostra città per poter fare gli auguri e poter stare insieme. Questo diciamo è un resoconto della nostra Natale, un Natale che l'amministrazione appunto manifesta la propria e totale soddisfazione, ci auguriamo che possa sempre migliorare ed essere sempre di più un punto attrattivo per tutta la Sicilia. Grazie e buona sera.